Allora, mister, un primo tempo di controllo, poi nel secondo tempo è venuta fuori la sua squadra. Sì, diciamo, nel primo tempo abbiamo fatto un po' sotto ritmo e non abbiamo fatto una grandissima partita. Nel secondo tempo l'abbiamo sbloccata e questo ci ha aiutato un po' a gestire meglio poi gli spazi in mezzo al campo. Abbiamo trovato in ripartenza poi l'opportunità di raddoppiare e di chiudere la partita. Diciamo che è stata una partita dura su un campo difficile, storicamente questo è un campo molto difficile. Sapevamo che Tolentino veniva da un periodo non semplice e quindi aveva grande voglia di riscatto qui in casa. Sì, abbiamo fatto una buona partita, ripeto, forse potevamo fare meglio nel primo tempo, ma ci prendiamo questi punti che sono importanti e ci danno continuità con la bella partita che avevamo fatto domenica col Pineto. Seconda vittoria esterna, una squadra che però quando c'è da appunto far prendere punti importanti si ritrova sempre il punto giusto. Noi siamo una squadra completamente nuova, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo, abbiamo faticato in alcuni momenti di questo inizio campionato. Piano piano stiamo prendendo una forma, un'identità e su questa dobbiamo continuare a lavorare. Sono punti importanti che ci tengono in una posizione di classifica e che ci consente ancora di guardare in avanti e quindi siamo felici del risultato. Allora mister, tanta buona volontà, tanta buona volontà che però non è bastato per invertire la rotta. No, non è bastato. Mi dispiace perché oggi la prestazione, l'impegno, i ragazzi ci tenevamo, aveva una risposta positiva. A mio avviso c'è stata, nel campo c'è stata, non è bastato. Paghiamo degli errori che adesso non ci possiamo permettere. Però ai ragazzi è un periodo no, è un periodo brutto, ma noi abbiamo solo la possibilità di lavorare come hanno fatto questa settimana perché dispiace tantissimo vedere questi ragazzi che si danno l'anima e poi non raccogliamo. Ma possiamo fare solo quello lavorare. Oggi mister, la coperta sostanzialmente era abbastanza corte, due infortunati e due squalificati. Ci sarà della settimana prossima anche l'opportunità di poter contare su questi indisponibili? L'hai detto tu. Però io dovevo vedere quello che è successo in campo. I ragazzi, nonostante la coperta corta, hanno messo tutto. Mi rode, mi rode. Sono avvelenato perché non possiamo regalare certe partite. Assolutamente è un momento bruttissimo, ma che ci deve accrescere. E non ci possiamo permettere cali di attenzione del genere. Poi ovviamente con la coperta un po' più lunga magari ci saranno possibilità di cambiare qualcosa. Grazie.